Un po' di tempo fa un mio amico è passato da Spotify ad Apple Music e mi ha chiesto se potevo consigliargli qualcosa che trasferisse automaticamente tutti i suoi brani e tutte le sue playlist da un servizio ad un altro. Ovviamente da bravo smanettone io ho subito mandato il link giusto e dopo aver completato in pochi minuti tutto il procedimento mi ha detto ma Fede dovresti farci un video perché effettivamente io non ho trovato nulla online, non conoscevo questo metodo per farlo e potrebbe essere utile. E poi quando qualche settimana fa uno di voi su Instagram mi ha fatto la stessa identica domanda ho detto beh forse sì è ora di farci un video. Ciao ragazzi io sono Fede Tutorial ed oggi vi mostrerò un semplicissimo metodo per trasferire qualsiasi brano e qualsiasi playlist da un servizio musicale ad un altro. Tutto quanto in modo completamente gratuito. Per fare questo utilizzeremo un sito internet quindi non dovrete nemmeno installare applicazioni, programmi perché è tutto online. Quindi teoricamente potreste fare questa procedura anche su un vostro smartphone o su un qualsiasi altro dispositivo che ha accesso ad un browser. Però non ve lo consiglio. Vi invito invece a farlo direttamente su un qualsiasi computer perché la connessione è più stabile, evitate che il procedimento si blocchi a metà perché magari si è bloccato lo schermo dello smartphone. Quindi se volete il metodo più lineare e semplice possibile aprite un semplice computer e seguite il video proprio come faccio io. Aprite il vostro browser di fiducia e cercate il sito tunemymusic.com. Ovviamente vi lascerò anche il link qua sotto nella descrizione del video se volete fare un po' prima. Ora tutto quello che dovrete fare sarà cliccare questo enorme bottone con scritto cominciamo. Ed ecco qui che ci dà subito una panoramica di tutti quanti i servizi a disposizione. Come vedete ci sono i più famosi, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal, addirittura possiamo anche scrivere un testo con semplicemente artista trattino brano e il sito ci andrà automaticamente a ricercare tutte le canzoni e inserirle in un servizio destinatario che andremo a scegliere successivamente. In questo caso io ho un iPhone e utilizzo Apple Music come servizio principale. Come vedete qui ho tutte quante le mie canzoni, tutti i miei brani scaricati. Sono parecchi, diciamo sono all'incirca mille, così, novecento, mille. Quindi vi dimostrerò che questo servizio è in grado di trasferire tutti quanti i brani anche se sono abbastanza. So che alcuni di voi magari ce ne avranno diecimila, centomila brani, però mille diciamo nella media, non sono né troppi né pochi. Non ho molte playlist, come vedete ce ne ho solo due, una chiamata Chill e una chiamata Top. E vi mostrerò che è in grado di trasferire ovviamente anche queste due playlist. Però senza perdere altro tempo, ormai avete visto che le canzoni sono parecchie, torniamo sul nostro computer. Come servizio sorgente quindi io andrò a scegliere Apple Music dove ho già tutte quante le mie canzoni all'interno. Scegliendo Apple Music in questo caso ci dà un avviso che ci dice che dobbiamo cambiare una piccolissima impostazione all'interno o dell'iPhone oppure su iTunes. In questo caso io ce l'ho già attivata quindi vado a saltare semplicemente, altrimenti basta cliccare su più informazioni e vi dice quale opzione dovete attivare e dove trovarla. Clicchiamo poi su connetti ad Apple Music e ci chiede ovviamente la nostra mail e password per poter accedere all'ID Apple dove c'è la libreria con tutti quanti i brani di Apple Music. Dopo pochissimi secondi vi dà già una lista con tutte le vostre informazioni. Ho trovato già tutti i brani che avevo salvato, gli artisti preferiti, gli album preferiti e anche le due playlist che avevo, Top e Chill. Se per qualche motivo non volete trasferire qualcosa vi basta togliere la spunta e poi cliccare su seleziona destinazione. Qui potete scegliere quale destinazione volete. In questo caso io per fare proprio una prova generica andrò a scegliere Spotify che secondo me è il servizio assieme ad Apple Music più popolare e più usato. Anche qui ovviamente ci chiede di accedere al nostro account di Spotify per poter poi trasferire tutte quante le canzoni e poi basta. Non dobbiamo fare nient'altro, basta cliccare su inizia a spostare la mia musica. Ora si avvia il procedimento completamente automatico, non chiudete questa finestra, non toccate nulla, non fate niente. Semplicemente aspettate, c'è questa grande barra che vi dice il completamento in percentuale, aspettate finché non finisce. Nel frattempo può capitare che vi dia qualche errore, ovvero canzone non trovata, artista non trovato. Questo è normalissimo perché alcune canzoni magari che ci sono su Apple Music non ci sono in questo caso su Spotify. Oppure potrebbe essere un normalissimo bug, c'è stato un errore nel trasferimento e quindi non ha trovato il brano. Comunque non preoccupatevi perché alla fine lui ci darà la lista di tutti i brani che non sono stati trovati e quindi poi voi potete agire come volete. Nel mio caso è già arrivato al 100%, ci ha messo all'incirca 5 minuti ma potrebbe volerci di più o di meno a seconda della potenza del computer, la velocità della connessione internet. Ci sono stati in questo caso dei brani che non ha trovato. Mettiamo quindi la spunta per vederli e poi espandiamo ogni singola categoria per conoscere il brano non trasferito. Io per esempio qui noto subito che questo mashup di avisi, 100% avisi, è normale che non l'abbia trovato perché è un brano che io ho aggiunto personalmente alla libreria di iCloud e quindi non poteva assolutamente trovarlo in nessun modo su Spotify. Altri invece non li ha trovati per altri motivi. Vi consiglio di dare un'occhiata veloce ai brani che non sono stati trasferiti e se c'è qualcosa che dovete assolutamente trasferire, segnatelo e cercatelo poi manualmente su Spotify. Gli errori comunque di solito sono pochissimi, poi dipende ovviamente da quante canzoni avete, da quale tipo di canzoni avete, però ci metterete poco a ritrovarli. E detto questo basta, non c'è nulla di più, devo solo mostrarvi che ha funzionato. Già se apro l'applicazione di Spotify sul mio iPhone vedo che tutti i brani sono stati trasferiti, lo noto subito sia dai brani salvati appunto sia dalle due playlist Top e Chill, ma per farvi vedere in modo ancora più preciso prendo un altro smartphone su cui apro Spotify, mentre sul mio iPhone apro Apple Music. Metto entrambi in ordine alfabetico e potete vedere subito, iniziando dalla lettera A perché Spotify inizia con i numeri mentre Apple Music no, ma tralasciando questo potete vedere che scorrendo tutti quanti i brani sono in ordine e sono esattamente gli stessi. Sì magari non sono ordinati perfettamente allo stesso modo ma lo capite subito, se scorrete un po' più in giù vedete che i brani ci sono tutti, quindi posso affermare che sono stati trasferiti con successo, a parte quei piccoli errori che ha dato in fase di trasferimento che variano a seconda appunto delle vostre canzoni, nel vostro caso potrebbero essere di più o di meno, però io posso ritenermi più che soddisfatto, ho trasferito più di 900 brani da un servizio ad un altro in 5 minuti e sono pronto in questo caso ad utilizzare Spotify. Non è vero perché in questo caso io continuerò ad usare Apple Music però quello vabbè è un altro discorso. A questo punto vi consiglio anche di guardare il mio vecchio video dove confronto Apple Music, Spotify ed Amazon Music Unlimited in modo che potete capire subito le caratteristiche di ognuno, vedere i pro e i contro e decidere quello che fa al caso vostro. Tanto ormai sapete come trasferire i brani da un all'altro quindi ci mettete due minuti. Spero che il video come al solito vi sia piaciuto e vi sia stato utile, se così vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivetevi anche al mio canale abilitando soprattutto la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti quanti i prossimi video. Seguitemi anche sui social, come sempre trovate tutti i link qua sotto nella descrizione e magari se volete condividete il video con qualche vostro amico che ha dei problemi nel trasferimento dei brani e delle playlist perché potrebbe essergli d'aiuto. Detto questo io vi ringrazio per la visione, da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video. Grazie per la visione!